Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica Il Fatto, davvero prestigioso l'ospite nei nostri studi questa sera, che è il Vice Premier Ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche coordinatore di Forza Italia. Buonasera. Buonasera Tajani, lei in Abruzzo oggi per una serie di appuntamenti, sia istituzionali che anche di contatto con questa realtà abruzzese. Parliamo innanzitutto di Forza Italia, perché probabilmente se ne è parlato meno nel corso di questa giornata, una realtà che in Abruzzo, anche nelle ultime elezioni politiche, ha ottenuto dei risultati superiori alla media nazionale. Peraltro in Abruzzo si voterà per le regionali nella prossima tornata del 2024 e quindi, insomma, una forza trainante della coalizione di centrodestra. Assolutamente sì, siamo al lavoro, siamo il centro del centrodestra, liberali, i democratici, i garantisti, i riformisti, e gli europeisti, gli atlantisti di questa coalizione. Siamo il Partito Popolare Europeo in Italia, in una regione di tradizione cristiano-democratica, come è l'Abruzzo. Serve una presenza forte e radicata del Partito Popolare Europeo in Italia, che è Forza Italia. Noi ci stiamo preparando già le prossime elezioni, ma prima abbiamo da guardare alle europee, alle regionali ovviamente. Siamo già in campo, organizzeremo un grande evento anche nazionale a Milano a maggio, proprio per chiamare a raccolta tutti i nostri amministratori. L'Abruzzo rappresenta certamente un fiore all'occhiello per il nostro movimento politico, perché i risultati sono usinghieri, ci stiamo rafforzando, anche oggi c'è stata l'adesione di altri amici a Forza Italia. Questo significa che c'è grande attenzione e abbiamo un grande ruolo da svolgere nell'ambito della coalizione centrodestra. Siamo stati votati per governare, governiamo, governiamo bene l'Abruzzo, vogliamo governare bene anche l'Italia, i cittadini ci guardano. Noi stiamo dando il massimo per dare risposte concrete ai cittadini. Primi 150 giorni di governo, un micro-consuntivo? Il consuntivo, nonostante le straordinarie difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, il consuntivo è positivo. Diciamo com'è la situazione economica, non abbiamo mai superato i 200 punti dello spread, le borse nonostante qualche difficoltà provocata dai rischi di Credit Suisse e della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti sono andate sempre bene. Le previsioni per la crescita economica sono migliori di qualche mese fa, quest'anno arriveremo allo 0,8%, il prossimo anno tra l'1 e l'1,5%. L'occupazione cresce, siamo in Europa tra i paesi che vedono crescere di più l'occupazione, sono ottimista per la crescita economica, stiamo cercando di aiutare famiglie e imprese, siamo riusciti ad ottenere il tetto al prezzo del gas e portando a conclusione un lavoro che avevamo iniziato nello scorso governo, ricordo che Forza Italia era parte del governo precedente, precedente, quindi gli italiani pagheranno meno le bollette di gas e elettricità e questo è già un grande risultato, continueremo però a tutelare una decisione dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, a tutelare le famiglie meno abbienti intervenendo sul caro bollette. Poi abbiamo fatto la riforma fiscale, abbiamo votato una legge di bilancio che è andata nella direzione di ridurre la pressione fiscale, potremmo stare qui a parlare ore di quello che abbiamo fatto, in politica estera siamo tornati di nuovo protagonisti, siamo tornati protagonisti nell'area dei Balcani che è qui di rimpettaia di fronte all'Abruzzo, quindi l'Italia riesce anche con le sue imprese ad essere protagonista, stiamo lavorando per incrementare la presenza delle nostre imprese fuori dai confini nazionali, per internazionalizzare le nostre imprese e per esportare di più, quindi l'export è un fiore all'occhiello della nostra politica economica, è cresciuta nell'ultimo anno e puntiamo a farlo crescere ancora di più nel prossimo anno. Stiamo affrontando tante emergenze, ma nonostante le difficoltà credo che si possa dare un giudizio positivo dell'azione di questo governo, ma lo vediamo dai cittadini che incontriamo nelle città, nei comuni più grandi, più piccoli, con quanto entusiasmo seguono l'attività di governo e i consigli dei nostri cittadini sono sempre molto preziosi. I ritardi sull'attuazione del PNRR ci sono? Da chi e da cosa dipendono e cosa rischia l'Italia? Il PNRR è figlio del famoso Recovery Plan, che era un'azione saggia, positiva dell'Europa per riparare ai guasti provocati dal coronavirus. Solo che la decisione è stata presa quando era ancora in corso la crisi legata al coronavirus e nessuno pensava che ci sarebbe stata un'altra crisi legata alla guerra in Ucraina. Quindi le cose sono cambiate in corso d'opera e questo ci deve portare ad avere maggior flessibilità per quanto riguarda i contenuti e per quanto riguarda anche la posizione europea. Ci sono stati alcuni progetti, in modo particolare due, che riguardano la città di Firenze e la città di Venezia, che erano stati precedentemente approvati dalla Commissione europea, erano stati presentati dal precedente governo, noi ci siamo trovati un pacchetto che era quello presentato dal governo precedente, stiamo lavorando con Bruxelles, mancavano nelle amministrazioni comunali funzionari esperti e mancavano anche numericamente, ma funzionari esperti che fossero in grado di lavorare su questi progetti. Abbiamo rifatto il codice degli appalti, cioè stiamo dando tanti segnali di volontà di fare delle riforme positive, realizzando queste riforme. Io credo che alla fine si troverà un accordo, è stato dato un mese di tempo in più e questo permetterà al Ministro Fitto di raggiungere gli accordi necessari per fare avere la tranche di questa fase da parte di denaro da parte dell'Unione Europea. A proposito di Unione Europea, rispetto al tema della guerra in Ucraina, probabilmente è il grande assente in questo scenario? Grande assente no, poteva essere un po' più protagonista, ma grande assente assolutamente no. Si poteva fare certamente di più, si poteva contare di più, l'Europa forse poteva svolgere un ruolo più autorevole, però l'Europa è stata unita, l'Europa si è dimostrata parte integrante e fattiva dell'Occidente, ha dimostrato solidità. Sul peso politico bisogna riflettere. Io vorrei un'Europa politicamente più forte, serve una difesa comune europea, ce ne stiamo rendendo conto con quello che sta accadendo in Ucraina. I ritardi degli anni passati è stata per noi di Forza Italia una grande battaglia, quella a favore della difesa europea. Ricordo tanti interventi, tanti discorsi di Berlusconi al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, interviste, dibattiti. Non sempre ci hanno ascoltato e ora si è un po' in ritardo. Anche sulla politica estera si potrebbe fare qualche cosa di più. L'Italia che ruolo può svolgere nella ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra? L'Italia può svolgere un ruolo importante. Adesso è il giorno 26 di aprile, come ha annunciato il Presidente del Consiglio anche nella telefonata di ieri con Zelensky. Ci sarà un grande evento organizzato dal Ministero degli Esteri, dal Ministero dei Medi in Italy, proprio per preparare la presenza italiana in quello che sarà un Paese parte del mercato interno dell'Unione Europea, le nostre imprese che già hanno fatto tanto, soprattutto per quanto riguarda la solidarietà. Abbiamo inviato centinaia di quintali, direi siamo a oltre 100 tonnellate di materiale elettrico, per esempio per ricostruire la rete distrutta dai russi. L'altro giorno ho presentato un'iniziativa della Federazione Italiana Gioco Calcio e della comunità di Sant'Egidio per portare migliaia di tute e materiale sportivo ai giovani perché possano in questo momento difficile poter sorridere e fare un po' di attività sportiva invece di stare nelle strade magari distrutte a aspettare il prossimo attacco. La solidarietà italiana si è dimostrata, le imprese italiane sono state molto generose e sono sicuro che saranno protagoniste nella ricostruzione perché abbiamo anche un saper fare straordinario in tanti settori, penso a quello delle costruzioni e quello della realizzazione di infrastrutture. Le chiedo un'ultima cosa che riguarda il tema dei migranti, anche per la sua precedente esperienza prestigiosa in Europa. Ci sono le possibilità perché diventi questo un tema di tutto il continente? A volte l'Europa è un po' sorda nella sostanza, formalmente siamo riusciti però a mettere all'ordine del giorno del dibattito politico la questione dei migranti, noi abbiamo due corridoi, uno mediterraneo e uno balcanico che preoccupano il nostro paese perché i flussi migratori sono in costante aumento, abbiamo chiesto un intervento forte in Tunisia perché il collasso finanziario di quel paese rischia di mettere in ginocchio un'economia che in caso di difallimento porterebbe a un collasso che aprerebbe le frontiere, aprerebbe le porte e i porti a flussi migratori incontenibili. Quindi lì stiamo lavorando, stiamo chiedendo all'Europa di intervenire, di concedere subito i finanziamenti previsti anche con il fondo monetario, devono fare le riforme in Tunisia, però se noi diamo una prima tranche di 300 milioni per esempio e chiediamo loro di fare riforme prima di dare la seconda tranche, quindi si può arrivare a un compromesso che permetta di risolvere la questione migratoria almeno lato Tunisia, poi c'è il lato Libia dove stiamo lavorando molto e più c'è il corridoio balcanico dove siamo fortemente impegnati con tutti i paesi candidati a far parte dell'Unione Europea per trovare delle soluzioni al fine di ridurre i flussi migratori. Contemporaneamente mentre combattiamo scafisti, trafficanti di essi romani e immigrazione illegale favoriamo l'immigrazione regolare per permettere anche alle nostre imprese sia nel settore industriale sia nel settore agricolo di avere più mano d'opera qualificata che proviene da paesi extraeuropei. Bene, noi ringraziamo il Ministro Vicepresso per essere stato nei nostri studi. Un'ultima cosa, abbiamo detto all'inizio, forse Italia in Abruzzo sta bene, sta bene anche Berlusconi, abbiamo avuto buone notizie in giornata. Sì, ma è una visita di controllo, giustamente, i check li facciamo tutti, quindi anche lui ha fatto un check, ma è a casa e può continuare a guidare molto bene la nostra forza politica, a sostenere il governo con le nostre idee riformiste, garantiste, europeiste, atlantiste. Siamo la grande forza di centro, siamo il Partito Popolare Europeo in Abruzzo e in Italia. Grazie Ministro, arrivederci, buona serata.